E' Antonio Salzano il vincitore della 119esima edizione del Palio della Stuzza, lo storico palio dedicato quest'anno alla polisportiva Santa Maria, locale formazione calcistica che ha ottenuto una storica promozione in serie D. Grande affluenza nel rispetto delle normative anti-covid sul lungomare perrotti per la storica manifestazione, ormai riferimento e tradizione, nella suggestiva Santa Maria di Castellabate. Antonio Salzano, oltre al primo posto con la bandiera dei colori giallorossi, ha ottenuto anche la terza bandierina, secondo posto invece per Francesco Federico. Quest'anno abbiamo dedicato questa manifestazione non solo a tutte le vittime, prima i familiari, è una cosa importantissima anche per quello che è successo per tutto il mondo, quindi è doveroso dire che la prima cosa sarebbe quella, ma la cosa importante è anche questo gemellaggio, la Stuzza che abbiamo già fatto in eccellenza, che ci sta portando bene con la Stuzza e l'abbiamo ripetuto per la Serie B, perché come la Stuzza è una cosa storica, è stata anche una cosa storica il successo di Santa Maria in serie D, è una cosa di tutti i giorni. E allora quest'anno, dato che la Stuzza e di Santa Maria partecipano solo nel nostro territorio, abbiamo dedicato la prima bandiera, diciamo, alla Santa Maria, con i colori giallorossi, perché quando riguarda anche per la Stuzza i colori del nostro paese sono giallorossi e quindi abbiamo portato un buon esempio, come ben vedete qua, tutta la situazione, voglio ringraziare il presidente Fassi, che anche lui ha contribuito, veramente una persona eccezionale come anche gli altri anni, si è messo sempre a disposizione con la Stuzza. E poi un ringraziamento personale anche ai premi, eccoli là, persone eccezionali di Napoli, ci stanno dando un sacco di aiuti le persone di fuori, questa è una cosa importante, i palloni che sono volati all'aria, ho specialità del negozio Fantasia di Napoli, la BCC, come ogni anno ci aiuta molto a queste situazioni, la barca, la barca a mare che ci vede, tutte queste persone che ci hanno aiutato e poi devo ringraziare in particolare nel finale la nostra associazione che Gianvranco ha detto ormai tutti i nostri componenti dell'associazione, i partecipanti stupendi, ha dato una mano già da ieri, anche oggi che dobbiamo smontare il palo, quindi è stata una cosa meravigliosa anche quest'anno per la 119esima edizione, quindi è venuto anche quest'anno una cosa veramente bellissima che si è fermato tutto il mondo, quindi questa nostra tradizione, anche se a fine mese ce l'abbiamo fatta, non si è fermata almeno quest'anno. Sì, oggi è stata una doppietta abbastanza faticosa anche perché dietro c'è molto, molto lavoro e molto sudore, quindi il giorno dell'assuzza stesso è molto impegnativo, quindi alla fine è una vittoria per tutto l'insieme che è stato fatto, quindi oltre alla mia vittoria personale. L'assuzza è proprio quello, è l'abilità di una persona che mette proprio in questa manifestazione, non è facile, non è semplice, però un po' di impegno, si può fare tutto, con un po' di impegno penso che si possa fare tutto, quindi anche un po' di fortuna, logicamente.